Roberta Capua e la separazione dal marito Stefano, non penso più all'amore Roberta Capua rompe il silenzio sulla separazione dal marito Stefano Cassoli Una delle conduttrice tv più apprezzate, Roberta Capua, ha deciso di aprire il suo cuore nella trasmissione Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta, che andrà in onda sabato 17 febbraio su Rai 2 dalle ore 14 Nella lunga intervista, come anticipa il sito ANSA, la conduttrice avrà modo di parlare della separazione dal marito Stefano Cassoli La storia d'amore si è conclusa dopo la morte dei suoi genitori e in quel frangente, come aveva spiegato nel salotto di Silvia Toffanin, si era ritrovata da sola proprio nel momento di massimo bisogno Ora su Rai 2 ha dichiarato, ora non penso più all'amore. Vivo unicamente per vedere felice mio figlio Leonardo La conduttrice Rai racconta, ho cercato di tenere duro per il bene della famiglia Quando una donna decide di separarsi non lo fa mai a cuor leggere, si spera di poter salvare la famiglia fino alla fine, ma poi bisogna guardarsi allo specchio e capire che nella vita l'importante è essere felici e perseguirla nel miglior modo possibile, con forza, tenacia, senza mai arrendersi Roberta Capua ha raccontato che ho cercato di tenere duro per il bene della famiglia, ma non è stato possibile Non ha mai rinnegato nulla di quello che ha vissuto con l'ex marito Stefano perché resta l'amore più grande della mia vita, ma a un certo punto bisogna pensare a se stessi Ora ha deciso di non pensare più alla sfera sentimentale e di riversare tutto l'amore che ha nel cuore su suo figlio Leonardo Roberta Capua ha vissuto un periodo difficile, la morte dei genitori e la fine del matrimonio Non è stato un periodo facile per Roberta Capua, una delle conduttrice più apprezzate dal pubblico Rai e non solo, che vorrebbe rivederla presto in un programma tutto suo Ma cos'è successo? Di recente sono morti i suoi genitori e poi si è separata dal marito consensualmente nel novembre scorso Si lascia quindi, ora, un anno molto triste e ora pensa solo al futuro del figlio E pensare che sognava di invecchiare insieme a Stefano Purtroppo l'amore non va quasi mai come si vorrebbe e ci ha tenuto a specificare che nella vita non ha mai tradito, soltanto una volta da giovanissima, e aveva riposto nel matrimonio le speranze di un'unione eterna Purtroppo l'amore non è stato un'unione e invece non ha mai tradito, soltanto una volta da giovanissima, e aveva riposto nel 아이�ogra Grazie a tutti.